quando in una notte sarai pronto a giocarti tutto il tuo futuro ogni tuo avere la vita perfino che tu sia un uomo innamorato uno scrittore all'ultimo capitolo o un pugile al tappeto allora sei pronto a trovare te stesso a sapere di cosa sei fatto a sapere di cosa sei quanto sei Grazie a tutti